Lo Stato è uno Stato a testa alta e si ristabilisce quella normalità che per troppo tempo non c'era. Quel Poncecola l'abbiamo ricostruito bene e velocemente perché lo Stato ha fatto bene il proprio dovere. Sembra straordinario perché eravamo tituati a qualche cosa di non ben gestito. Invece è normale. Facciamo tornare questo modello di Genova con questo modello di Genova, la normalità nella gestione delle infrastrutture. Il modello Genova quindi per voi è un esempio da seguire? Il modello Genova è un esempio da seguire per cantieri e infrastrutture simili a queste. Questo modello non lo puoi applicare per fare manutenzione sulle strade statali di Anas ad esempio. Lì bisogna che ci sia un attenzione, un indirizzo politico serio e coerente a parte dello Stato. E c'è quando nessuno ci vuole lucrare nella gestione di tanti soldi pubblici. Questo Poncecola l'ha costruito società private e pubbliche perché la progettazione esecutiva è di Italfair. Fa parte del gruppo ferrovie dello Stato con una società pubblica straordinaria. E l'hanno pagato chi lo doveva gestire? L'hanno pagato i Benetton e Aspi. Io penso che sia una bella rappresentazione di un ritorno alla normalità dove l'interesse pubblico che era sotto i piedi rispetto a un interesse privato che era diventato un abuso della cosa pubblica perché questo è solo pubblico, si ristabilisce quel giusto equilibrio tra interesse pubblico e privato. A livello personale cosa significa questo pubblico? Non lo so. Per lei è stato un momento umanamente abbastanza difficile, no? Sì, sì, io ho interiorizzato completamente la tragedia. Io ero qua poche ore dopo la tragedia, ho visto ancora le macchine all'interno, sotto le macerie c'erano ancora delle persone e l'ho preso a cuore. Ma se non l'avessi preso a cuore come ho fatto probabilmente non saremmo arrivati a scrivere un decreto così forte e così coraggioso. La Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi dei legali di Asti e di Benetton che avevano dichiarato che 8 dei 139 articoli della Costituzione erano stati violati dal decreto Genova. Sai che cosa ha risposto la Corte? Zero, erano tutti giusti. Lei ha subito anche delle critiche. Quando ti vetti contro un sistema che è pieno di soldi, che si compra tutto e tutti, ovvio che le subisci. Però quando capisci che sei nel giusto, io non mi devo fare professionista della politica, devo sfruttare al massimo la posizione che ricopro per l'interesse pubblico e penso che l'abbiamo fatto. Però il ponte è affidato ad Asti. Ma insomma, il ponte è affidato ad Asti adesso, ma ad Asti è fuori. La lettera dove Asti firma me ne vado, c'è scritto, ovviamente quello che io chiedo alla De Micheli, faccia alla svelta, faccia presto. Io non voglio arrivare qua ancora un mese o due ad averli in mezzo alle scatole. Ma perché semplicemente hanno fallito? Ma non lo dice Toninelli. Se lei legge tutti quelli che si ascoltano leggessero la sentenza della Corte. Sai che cosa c'è scritto? Che lo Stato ha fatto bene a non fare ricostruire perché era venuta meno la fiducia. E io, uno che non ha fiducia, mi vedo mica le autostrade italiane. Te ne considera che tra un mese o due sarà ancora di autostrade per l'Italia questa ponte? Ma questo diventerà certamente. Qua stiamo parlando del fattore tempo. Il fattore risultato è portato a casa. Via Benetton, public company che gestisce tra dei 6.000 km, che è le autostrade gestite da Aspi. È un risultato straordinario, ragazzi, perché i dividendi altissimi si trasformano in vantaggi per i cittadini. Più manutenzione e meno pedaggi. Io vorrei che fosse già fatto adesso, però velocemente. Bisogna lavorare tanto? Sì. Bisogna fare riunioni? Sì. Bisogna fare lavori notturni? Si fa niente. Si fa, no? E si porta a casa il risultato. Perché qua, ogni volta che passeremo, avremo un nodo alla gola. Perché non c'è niente da festeggiare. Perché questo ponte non dovrebbe mica essere ricostruito. Doveva essere manutenuto, così non sarebbe crollato e uno Stato non avrebbe dovuto ricostruirlo. Messaggio da Di Micheli? Nessun messaggio. Faccia la svelta. Faccia uscire il più velocemente possibile i Benetton. Il risultato è stato portato a casa. Il risultato per nulla scontato. E sapete perché l'abbiamo portato a casa? Perché la Corte Costituzionale ha detto che il decreto Genova era un signor decreto in punta di diritto costituzionale. Perché se si avessero accolto i ricorsi in punta di diritto costituzionale, probabilmente i Benetton sarebbero andati avanti. Siccome abbiamo vinto, siccome era giusto non farli partecipare alla ricostruzione, i loro avvocati hanno detto bandiera bianca, è arrivato il momento di andarcele. Ragazzi, quella lettera di diciamo me ne vado di Benetton va concretizzata con atti concreti che lei deve fare velocemente, velocemente. Alcuni familiari delle vittime hanno definito una presa in giro questa revoca che non è proprio una revoca. Allora, io non penso proprio, io ho parlato con Eger Possetti, ho parlato, io ho sempre avuto rapporti. Alcuni non l'hai, alcuni non l'hai. Esatto, io non sono riuscito a parlare con tutti loro ovviamente perché sono tante. Purtroppo le vittime è tantissimi familiari. Non lo è. Ed Eger, che ha capito perfettamente il punto di vista tecnico, se noi avessimo revocato come voleva il Movimento 5 Stelle, Salvini non ce lo fece fare nel primo anno di governo, che cosa accadeva? Di e Benetton è il soggetto pubblico che la gestiva. Con il risultato ottenuto, sa qual è l'effetto? Di e Benetton è un soggetto pubblico che la gestisce. E' la stessa cosa. Quindi questo è un soggetto di uno Stato che ritorna a fare lo Stato contro chi si è abusato, non si è mai abusato, dell'utilizzo della cosa pubblica. Semplicemente questo, un ritorno alla normalità, di più ne meno. A livello personale non essere ministro l'hai che ha avviato su questo percorso? Ma no, chi mi conosce sa che non ho mai ragionato sulla figura che ricoprivo, ma sull'incarico e quello che potevo fare. Io penso che non ha netto un po' di cosa l'abbiamo portato avanti. Questo ponte qua non ci deve far gioire, ripeto, perché è un ritorno alla normalità, però se no avessimo scritto le settimane durissime dove io ricevevo costanti contestazioni. Io mi ricordo Totti, Giorgetti e Renzi che parlavano di decreto Genova, questo ottobre, novembre, quando era in Parlamento, decreto Genova scritto con i piedi. Abbiamo visto, oggi con i piedi calpesti il ponte Genova, costruito grazie al decreto. E nel giugno del 2019, quindi un bel po' di mesi dopo l'approvazione del decreto Genova, abbiamo approvato il decreto sblocca cantieri che semplifica tutte le procedure necessarie per portare avanti cantieri e gare e appalti per opere un po' più piccoline. Adesso stiamo approvando il decreto semplificazione in Parlamento che aggiunge al decreto sblocca cantieri una serie di semplificazioni procedurali. Significa che finalmente i cantieri non inizieranno sulla carta oggi per essere messi a terra tra cinque anni, ma sarà tutto più veloce. Ma la cosa che conta è che finalmente è tornato un equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, perché se lei va a legge alla convenzione con cui i signori hanno gestito questa autostrada per vent'anni, l'interesse pubblico non esisteva, ma esisteva solo l'interesse privato. E quello che avvisiamo oggi è normale. Sembra straordinario perché siamo abituati a normalità con attaccato. Ma invece è normale. Qui riabituiamoci a questa normalità di uno Stato che fa usare la cosa pubblica ai privati quando la sanno usare bene e quando la usano male, come nel caso di Aspi, se la riprende.